A distanza di due settimane si ritrovano per il turno infrasettimanale di campionato le due finaliste di Coppa Italia, San Buceto e l'Aquila. 3-5-2 per Donato Ronci risponde Sergio Lore con il suo consueto 4-3-3. La prima azione è dell'Aquila al sesto minuto, lancio di Di Ruocco per Sciba, la conclusione al volo che si spegne sul fondo. 180 secondi e lo viso pennella per Sciba che insacca ma l'assistente di linea Terrenzi aveva alzato la bandierina vanificando il tutto. Minuto 13, Saurino prova a beffare Di Donato che invece risponde deviando in calcio d'angolo. Giro di Lancette e Massetti, ancora lui che aveva deciso la finale di Coppa, mette in rete insaccando con un tiro chirurgico un assist di Loviso. Si vede il San Buceto intorno alla mezz'ora, Marfisi per Caro che calcia male e allo scadere ci prova l'ex Ranieri. La sua conclusione termina tra le braccia di Bozzi e con le immagini montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa. Parte forte il San Buceto, traversone di Bruni, Mancini conclude a botta sicura ma Bozzi non si fa sorprendere. Al quarto d'ora Di Ruocco imperversa sulla fascia e dalla linea di fondo mette al centro per Sciba che deposita in fondo al sacco tra le proteste dei locali per un presunto fuorigioco. Minuto 70, Bruni mette al centro per Micichema, la sua sforbiciata termina a lato. Girandole di sostituzioni al minuto 73, Pellecchia che era entrato poco prima, viene sostituito da Salla. Minuto 74, Mancini prova la conclusione, palla a lato e scende il Sipario al minuto 81. Di Ruocco nuovamente lui sulla fascia per Dinorcia che in area tutto solo salta più in alto di tutti e fa 3 a 0. Mister Ronci, come commentare questa gara? L'Aquila ha vinto, possiamo dire, anche meritatamente. Sì, sì, è vinto meritatamente, però io sono contento della prestazione che abbiamo fatto per lunghi tratti della partita perché nel primo tempo abbiamo fatto la partita noi, abbiamo preso il gol con un altro aerogol, credo che era Massetti, non lo so. La palla è passata in mezzo a 4-5 di noi, quando marchi a zona non è che poi andiamo a marcare quello che sta così lontano. È stato bravo lui e la palla è stata anche fortunata perché è passata tra le molte gambe, quindi ha rotto un po' l'equilibrio. Quando la squadra ha fatto la partita abbiamo costretto l'Aquila alla defensiva, abbiamo tenuto bene il controllo del pallone, abbiamo mossa la palla da una parte all'altra. La squadra mi è piaciuta tantissimo nel primo tempo. Nel secondo tempo, nel momento migliore nostro, potevamo pareggiare con quel tiro di Mancini che pure lì è passata tra le gambe, magari troviamo il pareggio lì, la partita cambia. E poi da lì non abbiamo fatto golle, sul ribaltamento abbiamo preso golle e ho avuto veramente la percezione che il gol fosse nettamente in fuori gioco. Questa è la mia sensazione, perché se non la tocca nessuno e va dentro, ok, ma quando l'attaccante ha un metro alla porta, la prende di testa, per me è fuori gioco tutta la vita. Ora vediamo stasera, ci ha un po' tagliato le gambe, poi il terzo gol è arrivata una disattenzione, un cross, palla leggibile. Però in quel momento la partita era già chiusa, quindi mentalmente abbiamo accusato. Però sono contento per la gara che abbiamo fatto per lunghi tratti della partita. Mister L'Oreal, netto della bella vittoria 3-0, comunque il campionato è riaperto? No, noi dobbiamo guardare ad oggi, dobbiamo guardare a noi stessi. Il risultato è molto largo, al di là del risultato devo dire che devo fare i complimenti al Sambucena, perché soprattutto nel primo tempo ci ha messo in grossa difficoltà. Quindi al di là di quello che è il risultato, qualcuno se non ha visto la partita non è stata così semplice. Quindi noi ad oggi dobbiamo guadagnarci tutto. Per fare questo non dobbiamo guardare agli altri. Come ho detto in conferenza ieri, guardare agli altri significa essere dei perdenti. Quindi assolutamente è vietato stare a guardare agli altri. Pensiamo a noi partita dopo partita.